Allora, intanto subito un gesto per tutti i nemici di Di Pre Pratidun Channel. Premesso che questo è un video, forse lo è, e sicuramente lo è, io sono in un modo sborrable. Se voi godete con i piedi di una ripra del Gabon, fate benissimo, l'importante è sborrare in un pentolone inizialmente di marijuana. Attenzione. Il sesso fa male, io ne sono in un, è come se ti mordi un valore, lo vai in una riprazione. È chiaro che fa male, ma c'è anche gente che fa il sesso con i toni. La mia vita è travagliata, fatta di sesso e quantitativi sborrati, spaventosi, sborrati. E ricorda anche il colombiano Valderrama. E oggi ve ne svederò uno. Io sono il primo figlio di puttana e da piccolo sono caduto come il cazzo di Donald Trump nella fisica magica, nella serie Asterix. Ma che è successo con il porno? Ero in Colombia vestito da panda perché i panda vengono dalla Colombia. Mio nonno, che era un cacciatore di panda. Mio nonno era solito mettere la coca nelle teste di panda. Ora, io so che molti di voi vogliono a scuola e i vostri insegnanti non capiscono un cazzo perché spiegano male e lenti. Mio nonno, che era un cacciatore di panda.